Questo intervento presenta un mio studio sul profeta Elia nutrito dal corvo di Gian Girolamo Savoldo, opera oggi conservata presso la National Gallery of Art di Washington. Dopo una breve introduzione biografica sugli esordi del pittore, ripercorrerò le linee principali della scheda di catalogo del dipinto che fa parte del catalogo ragionato dell'opera pittorica di Savoldo a cui ho dedicato la mia ricerca dottorale. La definizione degli estremi della vita di Gian Girolamo Savoldo dipende da una missiva di Pietro Aretino risalente al dicembre del 1548. In quella che è l'ultima testimonianza di Savoldo ancora in vita, Aretino ne parla in toni elogiativi appellandolo come, cito, vecchione ottimo e sottolineando una seconda volta, cito, la di lui decrepitudine. Sulla base di queste indicazioni fu Adolfo Venturi a ipotizzare in maniera condivisibile che Savoldo al tempo avesse all'incirca 70 anni, presumendone di conseguenza la data di nascita intorno al 1480. Ugualmente sconosciuto è l'esatto luogo di nascita del pittore che sappiamo essere originario di Brescia grazie alle firme autografe apposte su alcuni dipinti, alle testimonianze di Paolo Pino e di Pietro Aretino nonché ai riscontri archivistici fin qui raccolti. Lo studio della produzione pittorica iniziale di Savoldo, chiusa convenzionalmente entro il 1521 con la pala per la chiesa di San Nicolò a Treviso, è segnato da una forte carenza documentaria tanto che nei primi 40 anni di vita di Savoldo è possibile associargli con buona certezza solamente quattro fonti documentarie che ne attestano il passaggio da Parma nel 1506 quando venne citato come magistro pittore, il soggiorno a Firenze documentato nel dicembre del 1508, la commissione ferrarese estense del febbraio 1515, infine la registrazione dei pagamenti elargiti al pittore dai dominicani di Treviso nel 1521 grazie alla quale si sa per la prima volta della sua residenza veneziana. Quanto alla data di arrivo in Laguna di Savoldo viene generalmente collocata in via ipotetica tra il 1512 e il 1515 sulla base degli influssi veneziani traditi dalla sua produzione artistica in questa fase. La maturità del pittore è fortunatamente arricchita da riscontri documentari più numerosi e frequenti attraverso i quali venne attestata la costante residenza veneziana del pittore. Il profeta Elia utrito dal corvo è un dipinto a olio su tavola trasportato su tela che si presenta in discrete condizioni conservative con alcune perdite di pigmento integrate da ridipinture oggi scolorite e localizzate principalmente nel cielo e sul mantello dell'eremita. L'Elia venne inventariato nella collezione Manfrin a Venezia per la prima volta nel 1794. L'opera venne venduta all'asta a Parigi nel 1870 e nell'ultimo decennio dell'Ottocento passò in collezione Loeser prima a Firenze e poi a Milano. Nel 1954 il conte Alessandro Contini Bonacossi ne entrò in possesso per poco tempo visto che nello stesso anno iniziò la cessione del dipinto alla Samuel Henry Cress Foundation di New York che lo acquisì nel 1957 per poi donarlo successivamente nel 1961 alla National Gallery of Art di Washington. La paternità savoldesca dell'Elia non venne mai messa in dubbio per via della stringente affinità stilistica con i Santi Paolo e Antonio Eremiti oggi conservati alle gallerie dell'Accademia di Venezia. Questa tavola che si trovava assieme all'Elia in collezione Manfrin portava la firma apocrifa di un certo Jacopo Savoldo firma qui trascritta nella lettura che Cavalcaselle registrò sul proprio taccuino di viaggio nel 1869. A seguito del restauro degli Eremiti del 1977 venne rinvenuta l'iscrizione autografa con la firma del pittore che confermò la paternità delle due raffigurazioni a Gian Girolamo Savoldo. In aggiunta alle evidenti analogie stilistiche che sono ampiamente storicizzate e alla comune provenienza dalla collezione Manfrin l'Elia e gli Eremiti presentano misure molto simili hanno alcuni elementi in comune come l'anfratto roccioso e il corvo con il pane in bocca oltre a presentare entrambi un soggetto di tipo eremitico. Sulla base di queste corrispondenze Creighton Gilbert ritenne di indicare l'Elia di Washington e gli Eremiti di Venezia come quadri pandan che è un'ipotesi decisamente valida a mio avviso da confermare così come fece generalmente la critica. Mancano purtroppo sia riscontri documentari che testimonianze antiche utili a determinare in maniera certa l'ubicazione originaria di questi due dipinti. Alcuni studiosi hanno elaborato in via del tutto congetturale alcuni scenari di provenienza delle opere. Partendo dal presupposto che l'Elia e gli Eremiti siano pandan Gilbert ne propose l'ipotetica collocazione nel convento di Santa Maria del Carmine a Brescia. Lo studioso ipotizzò che i due dipinti facessero parte di un gruppo comprendente anche la perduta lunetta con busto di Red David con l'arpa anch'essa menzionata da Caparcaselle come opera di Savoldo in collezione Manfrin dove però venne inventariata come opera di Girolamo e di Domenico Campagnola e l'opera è oggi andata perduta. La proposta di Gilbert si fonda sulla pertinenza dei soggetti eremitici all'ordine del Carmelo il cui mitico fondatore Elia venne indicato dall'ordine quale esempio per i successivi anacoreti non carmelitani cioè Antonio Abate e Paolo Eremita raffigurati appunto sulla tavola veneziana. Per Gilbert la pertinenza figurativa del gruppo di Savoldo precisamente al convento del Carmine di Brescia dipenderebbe dall'analogia tra le scelte iconografiche di Gian Girolamo e quelle del frate carmelitano Giovanni Maria da Brescia questi fu frescante nel chiostro di Tal Cenobbio e tra il 1500 e il 1512 raffigurò su incisioni diverse Elia con dei santi eremiti non carmelitani e un'imago clipeata del re Davide le scelte di Savoldo tradirebbero quindi la rispondenza a un comune e preciso programma iconografico se non persino la dipendenza da un'ipotetica commissione da parte di un non identificato monaco del convento per Gilbert proprio l'ipotetico monaco committente che sarebbe stato conoscitore dell'iconografia carmelitana avrebbe potuto suggerire a Savoldo di trarre la posa dell'Elia dalla stessa del San Girolamo nel Politico dell'Azzara di Francesco Squarcione già nella Basilica del Carmine a Padova Francesco Frangi concordò con Gilbert sia sull'origine carmelitana dei due dipinti savoldeschi che sul fatto che possano essere pandan tuttavia dando rilevanza all'analogia di posa tra il padovano e carmelitano San Girolamo di Squarcione e l'Elia di Savoldo propose di ricondurre ipoteticamente la commissione delle due figurazioni eremitiche savoldesche ai carmelitani di Padova o ad altro convento a costoro legato diversamente Renata Stradiotti raccordò in via congetturale le due opere di Savoldo a rapporto tra il cardinale Gasparo di Alvise Contarini del ramo della Madonna dell'Orto e tre membri della sua cerchia Tommaso Giustiniani Vincenzo Quirini e Sebastiano Zorzi che si fecero eremiti presso l'eremo di Camaldoli e vennero visitati da Gasparo nel 1515 la studiosa puntellò questo scenario sia con l'ipotetica collocazione originaria del compianto su Cristo morto di Savoldo nella chiesa di Santa Maria dell'Orto a Venezia sia con la presenza nell'annesso monastero a Santa Maria dell'Orto dei canonici regolari che Francesco Sansovino nel 1581 ricordò come cito vestiti di Turchino e dai quali Savoldo avrebbe potuto prendere spunto per la veste dell'Elia indicata da Stradiotti come azzurro Turchina di più recente elaborazione è l'ipotesi formulata da Vincenzo Farinella in merito all'originale ubicazione dell'Elia e degli Eremiti nella Ferrara Estense individuato con condivisibile certezza in Giangirolamo Savoldo il Mastro Zoane Hieronimo da Bresa depintore a cui Alfonso I d'Este nel febbraio del 1515 pagò tre figure lo studio so propone di identificare quest'ultime con i tre santi eremiti raffigurati sui due dipinti di Washington e di Venezia pur riconducendo convincentemente alcuni elementi delle raffigurazioni agli est di Ferrara lo scenario ricavato da Farinella è da considerarsi congetturale per via dell'ineludibile renticontazione di tre figure in relazione alla vendita di Savoldo ad Alfonso I d'Este le datazioni del profeta Elia vengono tendenzialmente fissate in considerazione della lettura delle cifre emerse in sede di restauro sugli eremiti di Venezia Francesco Valcanover sciolse la data in 1520 considerando l'Elia di poco antecedente Alessandro Ballarin lesse invece 1516 sulla tavola veneziana esplicitando però dei dubbi in merito all'ultima cifra forse un 6 speculare per Farinella si tratterebbe di un 5 o di un 6 speculare mentre per Francesco Frangi questi non riuscì a trarre un'opinione conclusiva dall'esame dell'ultima cifra della data per quanto mi riguarda esaminata la firma non posso che confermare le prime tre cifre che sono un 1 un 5 e un altro 1 ma devo purtroppo confermare anche l'illegibilità dell'ultima cifra la raffigurazione richiama in maniera abbastanza puntuale i passi biblici riferiti al profeta Elia che viene descritto come un uomo vestito di pelo con una cintura di cuoio stretta ai fianchi su ordine del signore Elia andò a stabilirsi di fronte al giordano i corvi gli portavano pane al mattino e carne alla sera il profeta è infatti raffigurato setuto in posa meditativa mentre un corvo lo rifornisce con del pane sulla sinistra lo scorso lo scorcio paesaggistico ospita un altro episodio della vita di Elia mentre camminava in compagnia del profeta Eliseo suo prossimo successore un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra di essi ed Elia salì al cielo in un turbine attraverso lo squarcio di nuvole ricavato da Savoldo Eliseo è raffigurato invocante il nome del profeta sulle sponde del Giordano con il mantello di Elia ai suoi piedi mentre dall'altra parte del fiume sono assiepati i discepoli dei profeti la scena è completata da un piccolo abitato di campagna posto a ridosso di alcune alture e da una torre troncoconica davanti alla quale ci sono tre cataste di legna due figurette e dalle aperture della struttura fuoriesce del fuoco spesso associato ad Elia nell'antico testamento dove si legge un profeta come il fuoco la cui parola ardeva come una fiamma il dato di verità caratterizza le figurazioni di Gian Girolamo fin dalle prime attestazioni tra le quali rientrano l'Elia e gli eremiti il tipo di vecchione con lunga barba canuta la nervosa durezza del volto gli zigomi scavati e le imperfezioni ritrattistiche sembrerebbe seguire quelli dei modelli dei lombardi trapiantati in laguna come Andrea Solario in alto a destra e Giovanni Agostino da Lodi nei dettagli centrali il portato del soggiorno fiorentino documentato nel 1508 sembrerebbe manifestarsi quasi esclusivamente nell'influsso esercitato su un savoldo dal trittico portinari di Hugo van der Goess che era esposto a Firenze dal 1483 nella chiesa di Sant'Egidio che fa parte dell'ospedale di Santa Maria Nuova nello specifico il politico dovette essere un punto di riferimento imprescindibile per il bresciano nel processo creativo delle teste lavorate dettagliatamente dalla luce radente come parrebbe emergere dal raffronto tra la gravità materica dei volti di Elia e Sant'Antonio Abate di Savoldo e quella del San Giuseppe del Fiammingo lo stesso influsso si riscontra sulle mani grosse e nucchiute da contadino dei due remiti savoldeschi che trovano corrispondenza nei medesimi elementi anatomici dei pastori e del San Giuseppe di Van der Goers analogamente i piedi callosi e nodosi degli anacoreti presentano caratteristiche similari a quelle del piede gonfio del San Tommaso Apostolo del Trittico Portinari i panni dell'eremita savoldesco dalla spessa grammatura tradiscono un'affinità particolare con quella dei morbidi e corposi panneggi dei sai dei santi francescani di Bernardo Zenale il panneggio di Savoldo differisce solamente nella composizione più grafica e insistita delle pieghe in quanto rispondente allo stimolo della stampa nordica infatti la composizione generale del profeta Elia dipende dalla penitenza di San Giovanni Crisostomo di Albrecht Dürer in quanto le due figurazioni presentano una figura seduta stagliata contro una cavità buia posta in una grotta sperone che occupa tre quarti dell'opera da destra lasciandone libera la porzione sinistra nella quale è raffigurato un paesaggio i due paesaggi sono organizzati secondo un'analoga successione di piani raccordati un prato antistante poi uno specchio d'acqua seguito da alberi dalla chioma tonda fino a giungere all'agglomerato roccioso che per posizione e conformazione richiama il castello nella raffigurazione di Dürer Gian Girolamo parrebbe trarre poi dal mondo leonardesco i ponti di rupi e montagne nonostante siano trasposti in un'accennata resa alla patinire per via di una decisa carica naturalistica e per la frastagliatura tratti tagliente delle rocce Savoldo avrebbe potuto prendere spunto da uno dei dipinti del fiammingo probabilmente già presenti nella collezione del cardinale Domenico Grimani a Venezia tra le opere di patinire viste da Marcantonio Michiel in quella collezione nel 1521 ci sarebbe potuto essere un esemplare analogo al paesaggio con martirio di Santa Caterina d'Alessandria qui presentato se non proprio questa tavola oggi conservata a Vienna è identificata ipoteticamente da buona parte della critica con la cito Santa Caterina sopra la rota nel paese di patinire che Michiel vide in collezione Grimani tornando all'agglomerato roccioso di Savoldo la composizione con cavità ponti di rupi e speroni sopraelevati con vegetazione arbustiva e cespugliosa non sembrerebbe discostarsi molto dalla conformazione del massiccio ricavato da Bernardo Zenale sullo sfondo dell'adorazione del bambino oggi al museo Ghetti di Los Angeles se poi insieme alle rocce sullo sfondo si considerano anche i blocchi di pietra scuri allungati e leggermente squadrati posizionati in primo piano si capisce che nell'Elia si respira l'aria della vergine delle rocce di Leonardo da Vinci un elemento del profeta Elia da ritenersi invece afferente alla cultura figurativa veneziana dei primi due decenni del cinquecento è la torre troncoconica a supporti radiali con fuoco che fuoriesce dall'apertura d'ingresso e dalla sommità della struttura l'idea della torre in fiamme potrebbe infatti essere stata mutuata da la tela grande a olio dell'inferno con Enea e Anchise di Giorgione vista da Marcantonio Michiel nel 1525 in casa di Taddeo di Niccolò Contarini si tratta di un dipinto che buona parte della critica indicò come ipotetica sorgente del sogno di Marcantonio Raimondi che sarebbe potuto ovviamente a sua volta essere stato il modello considerato da Savoldo il Bresciano avrebbe potuto guardare anche all'Orfeo di Oridice di Tiziano oppure alla scena fiammeggiante qui presentata in basso appartenente al trittico del giudizio universale di Bruges di Ironimus Bosch che è stato recentemente ricondotto con valide argomentazioni alla collezione veneziana del cardinale Domenico Grimani dove giunse probabilmente entro il 1515 dall'analisi del profeta Elia di Savoldo emergono quindi la grande sensibilità e la curiosità del pittore nei confronti di culture figurative differenti che avrebbe potuto intercettare sia nel recente passato ipoteticamente Lombardo è documentato a Firenze sia in quello che parrebbe essere un presente veneziano nella storia critica dell'opera non è stato mai considerato l'apporto di una cultura visuale che ricopre un fondamentale ruolo multisecolare nello scenario artistico lagunare mi riferisco alla cultura bizantina la crux principale che ha riguardato finora l'Elia di Washington è l'origine dell'iconografia impiegata da Savoldo la maggior parte degli studiosi si concentrò principalmente sugli ipotetici precedenti della figura del profeta e Carlo Gamba notò l'esatta analogia di posa tra il San Girolamo del politico dell'Azzaro di Francesco Squarcione e l'Elia di Savoldo nonostante l'esistenza del modello di Squarcione propongo un'inedita fonte iconografica per il dipinto del Bresciano al profeta Elia come a tutti i santi dell'antico testamento la chiesa latina riservò un culto molto ristretto fino al XVI secolo cerebrando invece quasi esclusivamente le figure dei martiri perfino i calmeritani inserirono nel loro messale la prefazio dedicata a Elia solamente nel 1551 nonostante il loro ordine fosse fondato sull'esempio di vita eremitica e contemplativa fornito da Elia all'inizio del 500 quindi il culto del profeta Tisbita non apparteneva alla liturgia romana e venne inserito nella edizio princeps del martirologio romano nel 1583 da ciò deriva anche l'esiguo numero di chiese dedicate al profeta in occidente ritengo inoltre che l'avvento in età moderna del culto di Elia nella chiesa latina e nel mondo occidentale possa essere legato a una riscoperta di un cristianesimo originario e vetero testamentario da parte di laici ed ecclesiastici su stimolo delle correnti riformistiche e rinnovatrici di inizio 500 questa prospettiva potrebbe essere suffragata dal ruolo ricoperto da Elia come militante nella lotta a ogni sincretismo religioso affidatogli sulla scorta dell'episodio biblico in cui sul monte carmelo sfidò e vinse i 450 profeti di Baal difendendo la fede nel signore vero Dio conseguenza della poca rilevanza liturgica di Elia nel mondo cristiano romano è un altrettanto scarso riscontro della sua presenza nell'arte occidentale fino al XVI secolo se si esclude la fortuna in etapa leocristiana del solo soggetto dell'ascensione del profeta Elia al cielo le raffigurazioni di Elia risultano rare nel medioevo e all'inizio dell'età moderna non sembrerebbe comparire in occidente un'iconografia dell'Elia con la posa del personaggio e l'ambientazione riscontrabili nella figurazione di Savoldo tra i vari precedenti di profeta Elia nutrito dal corvo quello affrescato nella cripta della cattedrale di Santa Maria ad Anagni non presenta la posa e l'ambientazione desertica del tipo Savoldesco ne consegue che la ricerca volta a rintracciare l'origine dell'iconografia dell'Elia di Savoldo all'interno della cultura figurativa occidentale è risultata del tutto infruttuosa diversamente in oriente il culto di Elia è da sempre molto più diffuso ed è radicato nella religiosità popolare si hanno infatti attestazioni di ricorrenze liturgiche in suo nome sia in ambito bizantino fin dal nono decimo secolo grazie all'importanza del culto eliano sotto gli imperatori Basilio I e Leone VI come anche attestazioni in ambito russo dai secoli undicesimo dodicesimo la rilevanza religiosa del profeta in oriente ha determinato un maggior numero di raffigurazioni degli episodi della vita di Elia sui più svariati tipi di supporto i soggetti più diffusi sono sicuramente l'ascensione di Elia al cielo e l'Elia nel deserto nutrito dal corvo quest'ultimo in particolare compare ad esempio nei refettori del monte Athos fondati tra il nono e il quindicesimo secolo su un affresco datato 1240 circa già presso la chiesa dei 40 martiri di Veliko Tirnovo oggi in Bulgaria e sugli affreschi del 1199 della chiesa del redentore sulla nera edizia a Novgorod in Russia andati purtroppo distrutti con tali premesse la ricerca della fonte iconografica dell'Elia di Savoldo all'interno della cultura figurativa bizantina ha portato al rinvenimento di un tipo iconografico dell'Elia nel deserto nutrito dal corvo che risulta del tutto rispondente a quello impiegato dal pittore bresciano per di più trattandosi di raffigurazioni su icona quindi su supporto mobile è altamente probabile che questi modelli fossero disponibili a Venezia agli inizi del XVI secolo l'iconografia in questione comprendente comprende il profeta con indosso una lunga veste e il mantello di pelle di pecora con un vistoso nodo sul petto l'anacoreta è seduto all'imbocco di una grotta ricavata in uno sperone di roccia ha il corpo rivolto alla propria destra e presenta la mano sinistra appoggiata sul ginocchio sinistro la testa viene sostenuta dalla mano destra ed è girata verso la propria sinistra rivolta verso un corvo che poggiato sulla roccia o in volo gli sta porgendo del pane la più antica attestazione di questo tipo iconografico a cui sono riuscito a risalire è della fine del XII secolo venne prodotta per la città greca di Castorià e si tratta dell'icona del profeta Elia che presenta tutti gli elementi raffigurati da Savoldo seppur non organizzati esattamente nello stesso modo decisamente più stringente alla raffigurazione di Gian Girolamo è quella riportata su un'icona bizantina del XIV secolo ossia l'Elia del deserto dell'Ermitage di San Pietroburgo infatti qui l'anonimo pittore posiziona la mano sinistra del santo sul ginocchio sinistro come fa Savoldo il corvo è posato sulla roccia è visibile anche d'interno del vello di pecora che fa da mantello al profeta e le sue gambe sono in posizione più simile a quella assunta nella raffigurazione Savoldesca risale invece al secondo quarto del XV secolo la raffigurazione forse più nota in oriente del profeta Elia nel deserto nutrito dal corvo che presenta anche la più stretta corrispondenza con l'opera di Savoldo si tratta dell'icona del profeta Elia dipinta da Angelos a Cotantos e conservata sull'isola di Nasso data la rilevanza del suo attore che era forse il più importante rappresentante della cosiddetta scuola cretese nel XV secolo l'Elea di Nasso ebbe grande fortuna e venne replicato in più copie da pittori cretesi nel XVI e XVII secolo alla luce di questa analogia ritengo che Savoldo abbia sicuramente tratto l'iconografia del proprio dipinto da un'icona bizantina analoga alle submenzionate data però l'esatta corrispondenza di posa tra l'Elia Savoldesco e il San Girolamo di Squarcione è altamente probabile che anche Squarcione avesse preso spunto da un'analoga icona bizantina del profeta Elia per la creazione del proprio San Girolamo il padoano avrebbe potuto vedere un'icona simile in Veneto oppure avrebbe potuto trarne un disegno se non un esemplare vero e proprio durante il viaggio in Grecia del terzo decennio del Quattrocento di cui scrisse Bernardino Scardeone nel 1560 nella biografia di Squarcione basata sull'autobiografia del pittore andata purtroppo perduta tornando a Savoldo è altamente probabile che il pittore avesse potuto vedere un'icona bizantina del profeta Elia a Venezia definita da cardinale Bessarione quasi alterum bizantium dal 1211 infatti i domini della Serenissima si estesero all'isola di Creta e dal XV secolo la forzosa e inizialmente non facile convivenza con gli occupanti portò alla nascita di una cultura mista cretese veneziana che favorì la stabilizzazione degli scambi economici e culturali tra l'isola e la laguna la prosperità economica dell'isola diede forte impulso alla crescita della pittura locale portando alla nascita della già citata scuola cretese ampiamente produttiva almeno dall'inizio del XV secolo inoltre già da quel periodo il fascino per l'Oriente la nascente moda del collezionismo e le disponibilità economiche dei veneziani diedero stimolo alla fioritura della pittura cretese e alla conseguente diffusione delle icone cretesi anche in laguna diffusione che divenne maggiormente rilevante tra il XV e il XVI secolo infatti dall'inizio del 400 le icone furono acquistate e commissionate da un vasto numero di chiese conventi monasteri e collezionisti privati il volume di icone giunte a Venezia nel XV secolo fu talmente ingente che un singolo carico nel 1499 poteva contare la bellezza di 700 icone nonostante questi volumi la domanda di icone bizantine si mantenne forte e costante nei secoli dando così stimolo allo sviluppo di una florida produzione di copie dei tipi iconografici più famosi tra questi ci furono sicuramente quelli del principale artista cretese della prima metà del 400 appunto Angelos Acotantos i cui modelli iconografici incluso quello dell'Elia furono replicati continuativamente fino a tutto il XVII secolo inoltre la trasmissione dei tipi di Acotantos in Italia fu probabilmente garantita anche da due suoi allievi che sono tra i principali pittori di Candia della seconda metà del XV secolo Andreas Ritzos e Andreas Pavias e alcune delle loro icone sono tuttora conservate in Italia non si può quindi escludere che l'iconografia bizantina del profeta Alia possa essere transitata in laguna anche tramite i due suscitati pittori cretesi alle opere bizantine presenti a Venezia per via di traffici commerciali e di spostamenti di artisti cretesi devono essere aggiunte le molte icone trafugate in occasione della conquista veneziana di Bisanzio nel 1204 nonché quelle giunte in laguna con i rifugiati bizantini dopo il 1453 a seguito della caduta dell'impero romano d'Oriente gli esoli accrebbero la comunità greca veneziana a cui il maggior consiglio decretò ampia ospitalità fin dal 1271 un numero sempre maggiore di Romei raggiunse Venezia dall'inizio del 400 in risposta alle pressioni turche sui territori dell'impero bizantino questo comportò una parallela crescita politica economica e culturale greca all'interno del multiculturale contesto veneziano la comunità greca a Venezia era così popolosa da registrare già le 5.000 unità che è un numero considerevole persino in rapporto ai 110.000 abitanti veneziani registrati nel 1509 direttamente proporzionale alla crescita della colonia romea veneziana fu la diffusione di icone bizantine in lagura in ulteriore aumento proprio dal 1500 circa in avanti sufficientemente in anticipo sulla realizzazione dell'Elia da parte di Savoldo intorno alla metà del secondo decennio del 500 è rilevante anche quanto emerso dall'indagine eseguita da Isabella Cecchini sugli inventari conservati presso l'archivio di uno dei sei tribunali veneziani delle cause civili il tribunale dei giudici del proprio risulta infatti che le icone greche costituissero il 18% di tutti i dipinti negli inventari di collezioni veneziani lì archiviate tra il 1511 e il 1513 quindi a ridosso dell'esecuzione dell'Elia di Washington superando di più del triplo le pitture di fiamminghi e tedeschi che ammontavano al 5% del totale inoltre il riconoscimento ufficiale davanti alla legge veneziana della comunità greca lagunare avvenuto con l'autorizzazione nel 1498 a costruire la scuola greca concorse a facilitare lo spostamento di artisti greci a Venezia e a conferire nuovo stimolo alla pittura di Candia che iniziò a interagire maggiormente con le nuove concorrenti dell'arte italiana del XVI secolo in aggiunta come già avvenuto tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo in ambito musivo la pittura veneziana manifestò consentaneità artistica e culturale con l'oriente bizantino proprio in contemporanea al suscitato sviluppo della colonia greca a Venezia è paradigmatico in tal senso che la risposta classicista degli artisti lagunari agli stimoli architettonici prospettici antiquari dell'Italia centrale fosse l'impiego di absiti mosaicate d'oro tra le architetture di fondo delle proprie raffigurazioni la ripresa dell'antico nel rinascimento a Venezia venne quindi operata anche nel segno della continuità con Bisanzio e così fece per primo Giovanni Bellini nella pala di San Gioppe nel Tritico dei Frari e ancora nella pala di San Zaccaria in seguito in maniera più frequente dal primo decennio del Cinquecento tra gli altri anche Lorenzo Lotto la pala di Santa Cristina Altiverone e il politico di Recanati Cima da Conegliano nella pala Montini nel San Pietro in Trono con i Santi Giovanni Battista e Paolo Sebastiano Luciani con i Santi Ludovico da Tolosa e Sinibaldo e Vittore Carpaccio nella presentazione di Gesù al Tempio in conclusione il riscontro dell'origine bizantina dell'iconografia del profeta Elia nutrito dal corvo di Savoldo a cui si aggiungono l'attenzione nei confronti delle opere di Patinire e Bosch presenti a Venezia e i rimandi ai dipinti veneziani di Giovanni Agostino da Lodi e Andrea Solario tradiscono l'appartenenza del pittore bresciano alla temperia artistico-culturale veneziana dei primi due decenni del Cinquecento ne consegue che i contatti fiorentini col trittico-portinari le analogie con la pittura di Zenale del primo decennio del Cinquecento e i leonardismi riscontrati nell'Elia siano da intendersi come testimonianze del recente passato di Girolamo in considerazione di questi esiti dell'analisi dell'Elia di Savoldo nonché della già menzionata stretta corrispondenza stilistica con i suoi eremiti per i quali Valcanove rilevò il termine post-quem del 1512 derivante dalla citazione del San Girolamo di Dürer confermo la collocazione della tela di Washington intorno al 1515 quanto alla provenienza originaria dell'Elia l'analisi qui svolta non invalida le proposte congetturali elaborate in merito a Gilbert Frangi e Stradiotti ma non concorre neanche a supportarle ritengo che fosse Venezia il luogo in cui Savoldo avesse più probabilità di entrare in contatto con un'icona bizantina del profeta Elia nutrito dal corvo avrebbe potuto farlo in maniera autonoma oppure ipoteticamente sospinto da una committenza che promuoveva il ritorno a una religiosità originaria attraverso l'esperienza eremitica così come facevano ad esempio i membri del circolo di Murano di cui faceva parte Gasparo Contarini nonostante ciò alla luce dell'ampia diffusione e vasta richiesta di coni in tutto il territorio della Serenissima e ricordando anche il rapporto privilegiato che intercorre tra i carmelitani ed Elia non si può escludere che il prototipo a cui Savoldo guardò potesse essere in possesso di una comunità carmelitana della Serenissima e che proprio nell'ambito di una commissione carmelitana sarebbe potuta essere stata indicata al pittore un'icona bizantina del profeta Elia come modello per la propria figurazione in questo caso però sarebbe più difficile spiegare l'apparente assenza di altri profeti Elia elaborati precedentemente sul modello sul medesimo modello bizantino utilizzato in seguito da Savoldo grazie grazie